...è la seconda progettazione e centesima per il Presidente Bartistomio, per la Bacolino, per il Re Bacolino, un po' di benessi e connessi, per il futuro. C'era una novità di una società femminile, sorta G2, dove in pochi anni, in centro, in tutto, Scala, C, U, S, B, S, A, S, D, come, superto, semifinalista, questo è l'unica squadra femminile al Nazionale arrivata fino a lì, a scassare con le potenti dievropria femminile e tanto altro. L'anno scorso è sorta un anno, il Real Bacolino, due anni di storia e già una conquista di più allora come adesso a guidare queste due portazioni c'è una persona e se brucio lo si vede il mattino la storia sicuramente si Marcello Abbandistoro bene Marcello io comincio a subito con quelle domande che facciate in giuse dagli ospiti perché è giusto è rica e poi sensazioni in questo momento secondo anno di storia primo anno sappiamo che è vinto non c'era non c'era più la prima e oggi sei qua per andare in questo difficile campionato per conquistare l'ambito scelto che tutti pensano come se lo dice poi andiamo avanti ci siamo ci siamo promessi tre anni di giustizia di guadalata e se ci arriviamo e se ci arriviamo bene ci siamo la pressione non sono i due giocatrici che è l'ultima che è giudata assolutamente loro stanno facendo il governo che ci sono stato fare e non farlo facendo esattamente bene stiamo stiamo di accanto quest'anno voi signori raffinandoli ma due sono trovato scuola come a te il nostro carissimo amico che mi dicono questa sera come ha definito il mister del mister il mister del mister si proprio e con la buona cosa facciamo gruppo di ragazze maravigliose uno stato maraviglioso noi saremo un po' facciutelli ma ci divertiamo cosa vuoi dire la vita il derby ma il derby ha avuto l'ultimo ma la giornata non si si non 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 sentite il problema che si si comunque ragazzi voi ci credete che gli obiettivi sono pieni non vogliono la promozione non vogliono tranquille e non perché non niente la faccia non ci prese nessuno non ci prese il gioco al fatto che se non ci vedete per anni a da che se a sempre per parte sono loro che giocano nel concerto io con Paolo con Sotto 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 che lo sta pensando a quando mi sta diciamo questa dite che la mano sulla destra bianca ugualmente regata giallo con ma so la maria è veramente le per il colore di pallonino spero che è il pallonino andiamo parlando sono stati tanti anni sono stati tanti oggi luce è quello che è mi sento il tiro non il tiro non il testatore non è passato no, no, no vediamo sempre il nostro video è una cosa fondamentale abbiamo l'invigenza che fa il fiore e l'occhietto della nostra comunità perciò facendo io ti ringrazio per quello che hai fatto per quello che farai sai che l'amministrazione è sempre vicina sai che non ci sono delle difficoltà però sono punti sempre superate e la cosa mi piace molto benvenuti a tutti grazie grazie a tutti grazie 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 ciao grazie Grazie per la visione Grazie per la visione